La leader di FDI è ancora furiosa per l'esito della partita per il Quirinale, eravamo d'accordo sul no a Mattarella, la prossima volta chiamerò il VAR. Nel centro-destra non tira una bella aria. Se tra Berlusconi e Salvini i rapporti sono più distesi, i due oggi si sono incontrati ad Arcore, la leader di FDI, Giorgia Meloni è invece furente per l'esito della partita per il Quirinale. Secondo me quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui non per me ha detto Meloni ospite di Quarta Repubblica, in onda stasera su Rete 4 tornando sulla vicenda del Colle. Una cosa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare. Con lui rivela Meloni non ci siamo più sentiti. Mi sono arrabbiata molto, perché c'ero già passata a detto ancora ricordo che abbiamo fatto un vertice di centro-destra, nel quale si parlava dell'ipotesi di votare il governo Draghi e mi rispondono no, poi lo scopro da un'agenzia di stampa. Lo stesso su Mattarella, lo scopro da un'altra agenzia di stampa, afferma sottolineando, il no a Mattarella era di tutti, lega, fai, noi centristi, e io dissi, scherzando, non è che possiamo scrivere nella scheda no a Mattarella. La prossima volta chiamerò il VAR. La leader di FDA i rivela poi un retroscena dei giorni scorsi. Tajani alla vinta votazione ci ha detto qualcuno chiede di rivotare Berlusconi, io ho detto scusate una settimana fa ha mandato un comunicato. Diciamo che ci sono parlamentari che si fanno eleggere con il centro-destra e poi preferiscono stare con il centro-sinistra continua, forse si voleva coprire quella cosa. Io non so se Tajani avesse parlato con Berlusconi.